buongiorno a tutti gran bella mattinata gran bella giornata l'inter non aveva mai battuto la juventus in una semifinale di coppa italia ma come abbiamo detto nel video pagelle da san siro con gli amici che poi abbiamo incontrato fuori dal meazza era abbastanza tardi ma non poteva mancare il nostro solito contributo però dopo tutte le interviste che abbiamo fatto in diretta e spero che abbiate apprezzato anche il post partita di sport mediaset dopo la gara dopo le emozioni dopo i supplementari della finale di coppa italia dell'anno scorso della supercoppa dell'anno scorso una dimostrazione di forza direi mai vista soprattutto dopo le due sconfitte in campionato che avevano diciamo lasciato parecchio amare in bocca perché l'inter si era fatta infilare in contropiede come non si deve mai fare con degli errori che fortunatamente ieri sera non sono mai stati commessi una partita preparata in maniera perfetta come sottolinea il teccaldo più famoso di youtube da simone inzaghi e questa forse è un'altra delle sue grandi rivincite anzi togliamo il forse l'ha detto bastoni abbiamo rivisto e rivisto le due sconfitte in campionato abbiamo preparata e quando giochiamo uniti e compatti non ce n'è per nessuno siamo una delle squadre più forti rimane il rammarico dei tanti punti buttati via in campionato però c'è ancora tempo per raddrizzare la rotta e cercare di andare a conquistare anche una qualificazione alla prossima champions league dopo la vittoria di empoli già la classifica è cambiata adesso arriva questo turno di campionato con interlazio e roma milan e dunque la possibilità di guadagnare su due barra tre avversarie se si riuscirà a vincere domenica sempre alle 12 30 san siro orario che abbiamo detto ridetto da abolire non esiste giocare a quell'ora c'è questa grande possibilità di rimettere le cose a posto e allora poi vedremo intanto si va a roma il 24 maggio a difendere il titolo e la coppa conquistata l'anno scorso contro la fiorentina aspettiamo la formalità di questa sera contro la cremonese dopo il 2 a 0 di cremona dell'andata fiorentina che ci ha battuto in campionato squadra assolutamente da non sottovalutare con delle individualità importanti giocatori veloci forti nico gonzalez cabral castrovilli poi difensori rocciosi come milenkovic e igor terracciano che quando è in giornata sforna miracoli non sarà per niente facile però diciamo che l'ostacolo più più grosso l'abbiamo superato battendo la juventus e adesso bisogna cercare di portare a casa dopo due supercoppe una coppa Italia la seconda coccarda ma nel frattempo questa finale vale già 10 milioni l'abbiamo ricordato in questi giorni l'accesso alla finale ne vale la metà e poi c'è la partecipazione alle nuove final four di supercoppa in arabia saudita gennaio del mese prossimo dove si affronteranno le prime due del campionato contro le finaliste di coppa italia quindi altra opportunità importante per andare a vincere un trofeo e vedremo come come andrà anche questo nuovo format che a qualcuno piace ad altri un po meno direi un inter che non ha mai sofferto giusto il tiro di kostic con la bella parata in allungo di onana in corner poteva vincere anche in maniera più rotonda anzi lo avrebbe meritato così come gioco avrebbe meritato per quel gol pazzesco che ha segnato leggermente in fuorigioco la sua posizione iniziale anche di marco ha tardato un attimo a fornigli il pallone per per andare in profondità come ha portato a scuola bremer che prima era stato anche sombrerato da lautaro martinez che all'andata ti ha regalato il rigore trasformato da lukaku dove sono le vedovelle di bremer mercato da due dov'è il mercato da due quelli che rimpiangono i tempi di tohir dove sono con una semifinale di champions league una finale di coppa italia una supercoppa conquistata in questa stagione due secondi posti in campionato e uno scudetto vinto una finale di europa league e ci sono quelli che rimpiangono tohir quando non riuscivi neanche ad andare in europa league e poi rispetto rispetto no lasciamo lì lasciamo lì grazie lasciamoli tohir e tutte le sue manovre comunque stato bravo a guadagnarci ha fatto un'operazione direi uno dei pochi a guadagnarci col calcio italiano però a parte quello era una squadra in grossissima difficoltà e rimpiangere tohir vuol dire proprio essere faziosi e non avere il minimo rispetto di quello che ha fatto con tutte le difficoltà le critiche che si possono fare però parlano i risultati i trofei conquistati i progressi fatti un inter che è arrivata al decimo posto del ranking europeo e puntini puntini c'è ancora un sogno da inseguire puntini puntini manchester city di un altro pianeta l'abbiamo visto anche ieri sera mi sono poi rivisto gli highlights di come hanno devastato tra de bruin e holland il povero arsenal che sembrava al napoli d'inghilterra che sembrava avere già vinto la premier league poi è crollato e vedete anche come conta la testa gli episodi e una premier league un po come l'inter l'anno scorso che sembrava già vinta adesso finirà al manchester city che ancora dietro ma con due partite in meno e con quell'extraterrestre la davanti che vi ho detto secondo me stavolta real madrid non riuscirà arrivare in finale e ha già ipotecato anche la vittoria della champions guardiola sto giro però il calcio è strano a volte anche gli underdog possono fare delle imprese pazzesche e lo speriamo puntini puntini adesso testa il campionato domenica con la lazio per rimettere le cose a posto ancora di più perché sei a meno sette dal secondo posto vincendo vai a meno quattro giocano prima roma e milan e poi approfittarne ancora di più però la lazio non è sicuramente stanca sono usciti un po acciaccati barella e cialanoglu aspettiamo che cosa ci verrà comunicato dallo staff medico sembravano solo degli affaticamenti già a fine gara tutto sembrava molto più tranquillo e rientrato rispetto al campo e alle prime sensazioni adduttore per cialanoglu e flessore per barella credo che non ci sarà neanche bisogno di fare degli accertamenti speriamo perché domenica con la lazio e poi c'è il derby poi arriva la roma e poi c'è la doppia sfida pazzesca di di champions league altre considerazioni su sulla partita di ieri sera su in zaghi che è stato sempre stra massacrato da tutti senza il minimo rispetto da poi quei poveri cialtroni che adesso provano a salire sul carro qualcuno qualcun altro non sa neanche come è finita la partita ancora un po però per per in zaghi che ha fatto anche lui i suoi errori però comunque non ha avuto praticamente budget dal mercato si è visto sfilare via lukaku akimi eriksen perisic sanchez e vidal non li mettiamo tra le sfilate importanti però comunque erano dei giocatori che hanno vinto tutto nella loro carriera e che potevano dare nei momenti di difficoltà qualcosa in più e in ogni in ogni caso ha fatto il suo paga per quello scudetto perso l'anno scorso però vedete anche l'arsenal sono cose che congiunture del calcio che quando vanno a concatenarsi poi succedono queste cose antipatiche la cosa che che mi ha diciamo sorpreso quasi è che a differenza delle altre sfide con la juve anche quelle vinte proprio ieri sera non ve lo dico dal campo non si è poi non si è proprio mai sentita la possibilità che la juve potesse riaprire la gara ma neanche quando è entrato milic chiese di maria a fare da punte che poi non davano nessun tipo di riferimento ai compagni e svariavano molto secondo me non è stata una mossa azzeccata tanto che adesso andremo a leggere i giornali anche la gazzetta picchia duro su su allegri e su anche le certezze che ci possono essere in casa bianconera di continuare con lui cose che noi non trattiamo però c'era anche qualcuno che rimpiangeva allegri secondo me in zaghi ieri l'ha incartato benissimo benissimo poi per il mercato da due ancora tra i migliori in campo i nuovi acquisti pazzesco acerbi ancora di più miki tarian migliori in campo mi sembra per la gazzetta nel pagelle addirittura meglio di di marco nana non ne parliamo mancano un po i giovani che stanno trovando poco spazio bellanova e aslani che però anche loro hanno qualità e abbiamo avuto modo di apprezzarli per la serie comunque aspettando anche lukaku ecco questo forse un piccolo passo indietro rispetto anche alle gare di champions è entrato nonostante si fosse scaldato dall'inizio per una ventina di minuti quasi si è stancato a scaldarsi a bordo campo però non è la stessa cosa che farlo in partita è un piccolo passo indietro abbiamo detto anche ieri sera laicate e guardate il video pagelle che deve diventare in hype e superare tutti gli altri video del mese con una media di 13 14 mila visualizzazioni invece dei degli spettatori comprate un po di visualizzazioni perché siete troppo indietro cambiate un po comprate invece che gli spettatori in live comprate un po di visualizzazioni perché siete un po indietro visto che sono cose che conoscete molto bene dicevamo su lukaku non averlo messo titolare adesso diventa un vantaggio in vista comunque della gara di domenica perché ti può giocare fresco lui come brozovic però mi è sembrato un po demotivato e un po deluso da non aver giocato dal primo minuto con tutte le motivazioni extra che aveva sulla partita adesso speriamo che la gioia il suo festeggiare insieme all'amico di marco sotto la curva nord abbia cancellato anche la sua iniziale delusione per una panchina che in zaghi aveva già deciso da tempo facendo proprio le coppie degli attaccanti a tavolino per alternarli e averli sempre freschi qualcuno se la prende ancora con Correa ho visto anche dei brutti voti sui giornali a me è piaciuto per come è entrato per come sta recuperando parzialmente un po qualche posizione diciamo nelle antipatie dei tifosi però ce l'ha messa tutta andava a pressare a fare fallo andava... tornava indietro gestiva il pallone non è quello stralunato sfiduciato del post mondiale che faticava anche solo a tenere un pallone mi sembra un giocatore rivitalizzato e speriamo che possa dare un contributo importante ha fatto un gran gol col Benfica speriamo che anche quello lo abbia fatto ritrovare due parole non possiamo non spenderle uno su Barella che abbiamo detto c'è un pressing serrato del Liverpool che vorrebbe prenderselo Klopp non è un mistero ha un suo grandissimo estimatore un Liverpool che sta facendo anche una rimonta pazzesca in Premier League vedremo se riuscirà a fare qualcosa di clamoroso almeno a tornare in Europa magari non in Champions perché lì il distacco è molto importante però magari riesce a conquistare un'Europa League o una Conference un Liverpool che vorrebbe strapparlo all'Inter la sua squadra del cuore che non credo sia nelle sue intenzioni però ci sono un sacco di variabili ieri abbiamo intervistato Marotta prima della partita ha detto che il quarto posto è fondamentale che non si possono adesso fare diciamo dei voti, delle pagelle prima della fine del campionato in ogni caso l'Inter è ancora in corsa in Champions League e adesso noi l'abbiamo intervistato prima della partita e anche in finale di Coppa Italia con una possibilità importante di andare a fare un altro importante traguardo e risultato quindi Barella ma anche Di Marco anche lui veniva insultato su certi canali gliene dicevano di tutti i colori che non fosse da Inter che fosse un terzino, un esterno al massimo da Serie B o da squadra di bassa classifica in Serie A e qui vi dico proprio chiedete scusa a Federico Di Marco titolare anche in nazionale grazie anche a Mancini che ha fatto vedere a Inzaghi che non era il caso di schierarlo braccetto perché perdi troppo in centimetri e diventa un problema poi in fase difensiva bravo qui anche Inzaghi a ritornare un po' sui suoi passi e a rimetterlo sull'esterno che ieri anche ha messo è il ruolo che ha sempre fatto che gli piace di più una bella rivincita anche per Di Marco un altro gol importantissimo dopo quello nella Supercoppa di Riad un'altra marcatura un po' fortunata ci ha scherzato su non l'ha detto chiaramente l'ha fatto capire l'importante però che la palla sia entrata e aspetta una rete ancora più decisiva speriamo che arrivi come ha detto al mio microfono ieri sera è bello anche vedere una difesa italiana che ancora tutta italiana si porta a casa insieme a Onana naturalmente un clean sheet bloccando la Juve dopo aver bloccato il Benfica a Lisbona dopo aver bloccato il Porto nelle due sfide Darmian a Cerbi Bastoni tanta roba anche qui complimenti anche a Inzaghi complimenti ad Armian complimenti ad Acerbi dov'è Acerbi Mania? dove sei? Acerbi Mania dicevate di tutti i colori contro il povero Acerbi vi do un'altra bella notizia che conferma le indiscrezioni che avevamo dato più di due mesi fa che sta cambiando anzi è cambiato qualcosa in Digital Beats lo leggiamo su Milano Finanza è cambiato qualcosa e potrebbe sistemarsi tutta tutta la questione vi leggo il breve articolo nuovo corso per Digital Beats nuova guida nuovi progetti e nuovo corso per Digital Beats la blockchain open source dedicata ai brand che punta alla diffusione dei pagamenti digitali attraverso cripto marchio noti in Italia per le sponsorizzazioni di Inter e Roma ecco rispetto a quegli accordi che hanno suscitato anche polemiche con il club è cambiato tutto in sostanza l'amministratore delegato di Zitara ossia Al Burgio come avevo detto due mesi fa che era anche il founder di Digital Beats e gli accordi con le società di calcio italiane erano stati siglati proprio da Zitara per promuovere il brand amico delle cripto quelle sponsorizzazioni non hanno funzionato ma i contenziosi riguardano proprio Zitara e non Digital Beats che nel frattempo ha cambiato pelle e non dipende più da Al Burgio che ha fatto un passo indietro oggi le redini sono nelle mani della fondazione Digital Beats il cui managing director è Daniele Mensi che è diventato anche CEO di Digital Beats parola d'ordine discontinuità da cui le prime mosse del gruppo che è probabile cercherà di ricomporre le situazioni di contenzioso in essere il perché è chiaro anche se le responsabilità economiche sono incapazitare il danno di immagine Riccardo ancora sulla nuova Digital Beats e per questo è ipotizzabile che nelle prossime settimane si cercheranno soluzioni concilianti con l'Inter anche se non è prevedibile di che tipo e ci possono essere quindi degli accordi per sistemare idem dicasi per la Roma che quindi anche lei ha avuto delle problematiche e poi parla di strategie e nuove anche idee e cose in ballo con la Roma pagamenti appunto in cripto dei cashback e quant'altro però ripetiamo nelle prossime settimane si cercheranno soluzioni concilianti con l'Inter quindi un'altra bella notizia per il metaverso e andiamo avanti a leggere un po' di vostri messaggi mi raccomando il video pagella iscrivetevi al canale che siamo sempre più vicini ai 40.000 follower a superare questo scoglio di tutto prestigio vediamo siamo a meno 396 forza iscrivetevi al canale e andiamo avanti così un po' di vostri messaggi subito li andiamo a leggere grande gioia naturalmente una stagione che da deficitaria sta cambiando colore Cristian abbiamo portato a casa una qualificazione importante facendo una partita massiccia ora testa al campionato e soprattutto massima umiltà visto il fitto calendario che ancora ci attende ma il cialtrone dello scantinato che parla di desideri che per lui sarebbe il vice di Allegri Landucci sveglia Landucci pupilla gialla sveglia abbiamo dimostrato anche oggi di essere una grandissima squadra Francesco Zappalà lottato su tutti i palloni con unione compattezza e mentalità continuiamo così sottolineo anche sul gol di Di Marco il gran movimento di Dzeko che porta via l'uomo in modo suntuoso Gianluca partita perfetta quasi in scioltezza grandissimi Cesar i video post partita sono stupendi con le reazioni a caldo dei tifosi meritano più visualizzazioni e like allora andate a farli Luca De Feo ho aspettato il tuo solito video prima di spegnere la luce anche perché la soddisfazione e l'adrenalina non danno tregua anch'io ho faticato a prendere sonno il Barzatalismano potentissimo come sempre merito di Marco e di Di Marco dopo San Marco non poteva che essere così come in un bellissimo giro di parole il cuore ha vinto ancora contro tutto e tutti abbiamo anche esorcizzato il 26 aprile 1998 Giuliano Ceccarini Ronaldo il triangolo della discordia Flavio Fiorini sento profumo di impresa impossibile calma piedi per terra perché poi va a finire che non va e arriva l'armageddon sono davvero contento per Inzaghi uomo solo coperto di M soprattutto da certi pseudo tifosi da divano che però ora gioiscono anche i finti anziani incredibile l'Inter va sostenuto allenatore compreso i tifosi devono stare vicino sempre alla squadra per vivere momenti come questi ma poi uno può benissimo criticare ma con rispetto con educazione non quelle volgarità che arrivano da i peggiori canali di youtube sono orgoglioso di questa squadra e giù dal carro intertristi giuseppe inzaghi assolutamente da confermare ci sta regalando tante soddisfazioni insieme ad una squadra dove spiccano i vecchietti a Cerbi Mkhitaryan e Dzeko altro che tempi di Tohir sento profumo di altri tempi in cui dominavamo in Italia e in Europa e i risultati di questi ultimi anni lo dimostrano grazie Inter grazie a te Marco per la telecronaca a bordo campo e per le interviste il Barza a muleto funziona Paolo Rauso crediamoci tutti insieme a questa doppietta Champions e Coppa Italia si può fare adesso piedi per terra ragazzi Alessandro Del Buono Manchester City però riuscire ad arrivare a Istanbul sarebbe un'altra bella cosa grandissimo Marco grandissima Inter partita assolutamente in controllo intanto ci prendiamo un'altra finale un plauso a Inzaghi giusto criticarlo per il campionato deludente ma altrettanto giusto fargli complimenti per i risultati nelle coppe Attila Inzaghi ha nettamente vinto la partita a scacchi con Allegri complimenti a tutti i ragazzi che ci hanno regalato un'altra serata magica siamo in finale grazie Inzaghi ai ragazzi adesso tutti sul carro Paolo Vismara Paolone questa è la dimostrazione di avere testa e cuore Michele Rombo che emozione ottima partita di squadra senza strafare diamo i meriti a Inzaghi nelle partite di coppe quasi infallibile Francesco andiamo in finale ce la siamo strameritata bravo mister bravi i nostri ragazzi Riccardo grandissimi tutti mi permetto di suggerire a Barella mezzo voto in più per l'assist a Di Marco hai ragione gli diamo da 6 e mezzo a 7 il triplete grandissimo Barzatalismano si vola a Roma e andiamo a difendere la coppa e poi ringraziamo tutti gli abbonati Enrico io non lo chiamerei fortunato perché quante volte è capitato che i nostri attaccanti anche sotto porta sbagliavano nonostante la grossa possibilità di segnare Marco è stato molto abile Luigi Fantauzzo squadra monumentale Inzaghi in Coppa è pazzesco Fabio Giordano Inter Massimo Cattaneo vorrei leggervi tutti ma non facciamo in tempo grazie soprattutto a voi che continuate a essere presenti qui Anthony Magnoni Larita tutti i nostri abbonati che continuano a crescere andiamo avanti verso traguardi sempre più importanti apriamo con una brutta notizia la rassegna stampa perché vado su Repubblica siamo vicini ai colleghi perché in Ucraina sono stati dei cecchini hanno sparato sui giornalisti che sono lì per fare il loro lavoro cecchini in azione contro l'inviato di Repubblica Corrado Zunino rimasto ferito ucciso il suo interprete siamo vicini ai colleghi e contro ogni guerra solo per la pace cose veramente vergognose andiamo alla gazzetta dello sport dopo la nostra solidarietà massima a quanto accaduto Inter bella di coppa Juve spenta Inzaghi va in finale signora in crisi e con Max futuro al buio picchia forte ve l'ho detto decide Di Marco in erazzurri senza problemi Allegri eravamo addormentati oggi Fiorentina cremonese basta Di Marco la signora non c'è in Coppa Italia comanda Inzaghi Inter è tua la finale Juve flop Di Marco gol tutto buono Dzeko invece in fuorigioco il prossimo 24 maggio Simone Inzaghi entrerà all'Olimpico di Roma che è stato il suo castello con l'intenzione di calare il poker nero-azzurro un'altra Coppa Italia dopo quella della stagione scorsa le due Supercoppe la sua Inter si è meritata la finale poi la carezza mancina del tifoso Federico Pagelle della Gazzetta il migliore è Mkhitaryan ve lo dicevo 5 e mezzo a Correa non sono d'accordo 7 Inzaghi 7 a Cerbi 6 e mezzo Darmiane Neonana anche Bastoni 6 Dunfri 7 Barella 7 Di Marco 6 e mezzo Ciannoglu 6 Dzeko 6 e mezzo Lautaro 6 Brozovic 6 Lukaku chi è il peggiore nella Juve Bremer 4 e mezzo mercato da 2 l'eroe di San Siro rivincita Di Marco il gol da ricordare sarà il prossimo Bastoni così è difficile batterci Inzaghi finale meritata ci mancano ancora 10 gare o magari 11 ci vediamo dopo da piano di San Siro